Spinoza è stato riguardato come filosofo maledetto, perseguitato ed emarginato in vita e combattuto, è guardato come figura sospetta e pericolosa dopo la sua morte in relazione alle sue opere, nei confronti dei quali si è seguito lo stesso atteggiamento persecutorio che si era seguito nei confronti del loro autore. Vuole mostrarci le ragioni di fondo di questa sua caratteristica di filosofo maledetto. Ci sono molte ragioni che accomunano Spinoza ad altri filosofi maledetti come Machiavelli o come Giordano Bruno. Tali ragioni sono di natura però diversa e molteplice, ma coincidono con quelle che hanno portato alla demonizzazione di Machiavelli o al rogo di Giordano Bruno perché tutti questi pensatori scuotono dalle fondamenta alcune convinzioni che hanno guidato la tradizione dell'Occidente e non solo dell'Occidente per millenni. Il primo motivo di scandalo a proposito di Spinoza è stata la sua identificazione di Dio con la natura, il che voleva dire non soltanto negare l'esistenza di una divinità personale, come era nella tradizione ebraica a cui Spinoza apparteneva, o nella tradizione cristiana, ma vuol dire negare contemporaneamente la provvidenza divina. Se Dio è natura noi siamo parte della natura, ma soltanto parte e questo distingue Spinoza dalle impostazioni quasi contemporanee a lui, ad esempio dalla filosofia di Bacone che voleva che l'uomo vicerre dell'altissimo diventasse padrone della natura. Ora, in Spinoza c'è invece un rapporto molto più rispettoso e necessariamente rispettoso nei confronti della natura. La parte non può dominare il tutto e noi non siamo neppure, come credeva di essere l'uomo del Rinascimento, un microcosmo, cioè in noi non si riproduce miniaturizzata l'immagine di tutta la natura. In quanto passivi noi subiamo gli effetti di tutte le forze naturali e sarebbe assurdo e ridicolo che noi pensassimo di poter superare questa passività. Al massimo la possiamo attenuare e questo è il compito sostanzialmente delle opere di Spinoza e in particolare dell'etica. Il secondo motivo di scandalo è dato invece dall'identificazione della necessità con la libertà. Spinoza arriva a dire che se una pietra lanciata per aria potesse pensare, crederebbe che il suo movimento fosse stato causato da se stessa, cioè che è libera di muoversi. Mentre invece noi, per Spinoza, non siamo affatto liberi, nel senso che le cause delle nostre azioni dipendono soltanto da noi. Avere coscienza di qualcosa non significa avere coscienza delle cause. Tutto nel mondo è il risultato di cause e di effetti. È interessante notare che in altri grandi pensatori, non filosofi, di tradizione ebraica, ammiratori peraltro di Spinoza, come in Freud o in Einstein, anche per loro nel mondo niente avviene a caso. Così è per il lapsus o per i sogni in Freud e così era per Einstein, che aveva scritto anche una prefazione a un libro su Spinoza, a proposito della famosa affermazione che Dio non gioca ai dadi. Il problema di Spinoza è quello di essere liberi, non nel senso di sfuggire alle leggi di natura, ma di utilizzare le leggi di natura come si utilizza, che so io, il vento, che certo non lo fa per far piacere a noi di soffiare, per far gonfiare e poniamo le vele di una barca. Quindi noi non andiamo contro le leggi naturali per essere liberi in un senso più lato. Noi le pieghiamo ai nostri scopi e alla nostra utilità. Il terzo motivo di scandalo è stato il rifiuto dell'etica del sacrificio, dell'idea della morte e della vanità di tutte le cose. Spinoza afferma con decisione che noi dobbiamo rivendicare il diritto di ogni individuo al perseguimento di quello che chiama la sua utilitas, che non coincide con l'egoismo, ma che implica che io non mi devo sacrificare, perché in Spinoza, quarto e ultimo motivo di scandalo che è collegato a questo, il potere e il diritto coincidono. Il pesce grosso mangia il pesce piccolo. Quindi finché io non raggiungo un grado di potere adeguato, non potrò, per così dire, lamentarmi della mia sorte. Il problema di Spinoza è quello anche politicamente di costruire delle istituzioni politiche, ad esempio la democrazia, in cui gli uomini siano dotati di pari poteri e di pari diritti, per evitare che qualcuno opprima l'altro. Come si vede qua siamo alla radice di due tradizioni diverse rispetto a quella, poniamo, di Rousseau e dei moderni, o del diritto naturale, per cui io sono libero se rinuncio a parte della mia libertà, se alieno, come si dice, parte della mia libertà, cioè la vendo, la dono allo Stato, per poi ricevere in cambio protezione. Per Spinoza è questo veramente un elemento tipico, anomalo. Per Spinoza non c'è nessun patto sociale, io non devo rinunciare a niente. Questo significa anche che per Spinoza, per quanto possa apparire contraddittorio, dato l'elemento di identità tra essere liberi ed essere necessitati, e l'elemento di identità tra l'avere potere e l'avere diritto, questo significa che gli uomini per Spinoza possono però cambiare. E come cambiano? Attraverso uno sforzo, un conatus, che rende possibile il fatto che ci sia una morale umana. Noi sappiamo, ad esempio, che Spinoza è stato uno dei maestri del Marchese di Saad, perché il Marchese di Saad ha preso alcune affermazioni, secondo cui tutto è relativo. E Spinoza lo dice, ciò che è bene per il lupo è male per l'agnello. Poi però nell'universo il bene e il male si lidono. E questo è sembrato un supremo immoralismo. Mentre invece per Spinoza tali ragionamenti valgono, non come un elemento di relativismo morale, ma per il fatto che prendendo l'uomo in quanto unico essere che partecipa dei due modi della sostanza divina, come dice lui, cioè due modi di manifestarsi o delle maniere in cui si conosce la natura, cioè l'estensione, la corporeità e il pensiero, l'uomo, essendo l'unico animale che è capace di pensare se stesso, oltre che di avere un corpo, le cose poi sono inscindibili, ecco, in questo caso l'uomo può avere una morale che è tipica dell'uomo. E quindi non c'è nessun relativismo. Noi siamo per natura degli uomini e abbiamo una morale che è semplicemente umana. E quali sono, diciamo, nel loro insieme, gli elementi che caratterizzano l'uomo? Beh, gli elementi che caratterizzano l'uomo sono sostanzialmente, già dalla definizione che Spinoza ne dà, quello del desiderio. L'uomo è caratterizzato dalla cupiditas, che significa che è un animale desiderante. E Spinoza distingue tre livelli della conoscenza e tre livelli dell'essere uomini, che sono tre stadi del desiderio. Cioè il primo stadio è quello della passività, delle passioni, appunto. Se ne conta oltre 40. va notato che le passioni, a cui corrisponde a un altro livello l'immaginazione, non sono puro disordine, ma sono, per quanto spiacevoli, intellegibili così come è intellegibile per noi, almeno dopo Binamino Franklin e oltre, il fulmine. Anche le cose che ci fanno star male, ci fanno soffrire, hanno una loro spiegazione. Questo vuol dire Spinoza. Allora, il primo passo per Spinoza, nel caso dell'immagine dell'uomo, essendo le passioni il segno ineludibile della nostra passività, dei confronti delle forze dominanti dell'universo, perché il nostro corpo e la nostra mente sono spersi in questa immensità della materia e delle altre menti degli uomini, e quindi noi non possiamo pretendere orgogliosamente di comandare all'intera natura, il primo passo che dobbiamo fare è accettare di essere passivi. D'altra parte, essere passivi non implica affatto che questa passività non si possa in parte superare. Spinoza ha un esempio molto chiaro. Un bambino è certamente più dipendente dalle cause esterne, meno autonomo di un adulto, cioè dipende dagli altri per la sua alimentazione, poniamo, per i suoi bisogni, eccetera. Però, mentre cresce, diventa più capace di autogovernarsi, abbandona quelle fantasie che sono tipiche dell'infanzia, diventa più razionale. Ecco allora che, Spinoza, non solo bisogna abbandonare le passioni, queste passioni si abbandonano soltanto quando si sa che non ce ne potremmo liberare completamente, quando queste passioni si possono trasformare, come vedremo magari più avanti, in affetti, cioè in qualche cosa che non è cieco desiderio, ma conoscenza. Per cui il secondo livello del nostro modo di esistere e di conoscere, del nostro sforzo, del nostro conatus, è per Spinoza la ragione. La ragione è il campo dell'ordine, dell'esplicito, delle conoscenze universali. Soltanto che noi sprechiamo, per così dire, un'enorme quantità di energia, nel dire, vade retro Satana, alle passioni. E la ragione, pur essendo, per Spinoza, qualcosa di assolutamente necessario, a cui Spinoza è favorevole, non costituisce pertanto l'ultimo stadio dell'essere uomini. e lo stadio più alto, a cui pochi tuttavia giungono, quelli che Spinoza chiama i saggi o i savi, è l'amore intellettuale. E qua bisogna intendersi su cosa è l'amore intellettuale. Sono state date interpretazioni di tipo mistico di Spinoza, o di mistica occidentale, o ebraica, o addirittura di mistica buddhistica. L'amore intellettuale per Spinoza non è una negazione della ragione, ma è semplicemente la conoscenza delle cose particolari, che presuppone i due stadi precedenti, presuppone le leggi universali. Anche qua un esempio può essere chiaro. Spinoza è l'autore di un compendio di grammatica della lingua ebraica. Ora, quando io imparo una lingua straniera, io imparo in genere, secondo i vecchi metodi pedagogici, una serie di regole generali, poi mi fanno fare quelle applicazioni, mia zia ha perso l'ombrello, ieri sono andato in bicicletta, in cui io imparo ad applicare le regole generali ai casi particolari. Lo stesso esempio può valere anche a livello che è molto più spinoziano, che oggi chiameremo psicosomatico, quando imparo a guidare. Inizialmente, quando non conosco le regole che si studiano nel libretto di preparazione per la patente, sto aggrappato come un'ostrica allo scoglio, al volante, sto a fare una quantità di ragionamenti, mentre invece quando ho imparato una lingua straniera, ho imparato a guidare, io creo continuamente delle frasi particolari, specifiche, mi muovo in tutte le situazioni imprevedibili del traffico stradale, e questo è un esempio, anche se può apparire molto lontano, di amore intellettuale. Vuol dire che io sono così sicuro di me stesso che presupponendo conoscenze universali posso creare delle leggi individuali, anche se il termine sembra paradossale. Grazie a tutti.